ciao a tutti oggi vorrei condividere con voi un messaggio che la madonna mi ha dato negli ultimi giorni ha detto continuate a pregare molto e sradicare tutte le cattive abitudini e tutto ciò che vi tiene lontani da dio non siate scialbi con la vostra vita spirituale lasciate che gli altri vedono le vostre buone opere e la gioia nei vostri cuori dio mi ha mandato per essere con voi e per condurvi a mio figlio gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti egli è il vostro salvatore offrite tutte le vostre preghiere sofferenze e ansia a lui e confidate che egli si prenderà cura di tutti i vostri bisogni siate pronti e a salutarlo quando egli viene per voi non sapete né il giorno né l'ora guardate con gioiosa attesa alla sua venuta non preoccuparti degli eventi inquietanti che accadranno nel mondo e dei disastri futuri che verranno sono necessari a causa della ribellione dell'uomo contro dio non avete nulla da temere se mettete la vostra fede e fiducia in dio che vi amo così tanto e vuole darvi il regno offritemi le vostre preghiere perché sono qui per aiutarvi nel vostro cammino cammino spirituale grazie mille per l'ascolto e per aver messo in pratica le mie parole e grazie mille per la vostra attenzione oggi e vi invito ad iscrivervi al mio canale